20 studenti provenienti da Costa d'Avorio, Guinea, Gambia, Senegal, Mali, Nigeria, Afghanistan, Ghana, migranti, richiedenti e asilo si sono dati appuntamento presso l'Istituto Alberghiero di Brindisi per prendere parte della prima lezione teorica del corso Saro Chef Cuochi nel Mondo, promosso dalla Caritas Diocesana e dall'Associazione Migrantes con la collaborazione dell'Istituto Superiore. Cento ore tra teorie e pratica in cui i ragazzi svilupperanno l'integrazione interculturale attraverso la gastronomia ed amplieranno la propria formazione per acquisire competenze spendibili nel mercato del lavoro. Il 70% dei corsisti ha trovato lavoro, se non in maniera stabile, almeno in maniera stagionale e comunque tutti hanno avuto la possibilità di intraprendere un percorso formativo e lavorativo importante. Il corso, giunto alla seconda edizione, intende avvicinare i ragazzi alla tradizione gastronomica locale, regionale e nazionale e far conoscere loro i piatti tipici delle etnie maggiormente rappresentate sul territorio e creare dei momenti di incontro conviviali e interculturali. Poi, al termine del percorso, saranno impegnati in varie strutture per un periodo di stage. Città come Brindisi ce ne sono pochi che offrono queste possibilità di imparare a cucinare e soprattutto anche nella lingua italiana. Questo corso ha aiutato tanti di noi perché con questo puoi trovare qualcosa da lavorare e da vivere bene senza fare le cose schifo in questa società. Grazie. Grazie.